Dal 13 febbraio al prossimo 26 giugno i musei San Domenico di Forlì offrono una preziosa e rara occasione, quella di ammirare un'eccezionale mostra, Piero della Francesca, Indagini su un mito. Esposte circa 250 opere realizzate da celebre attristi del passato per arrivare ai grandi nomi del Novecento affiancate a quelle del sommo pittore del Quattrocento. Presenti alcuni dei capolavori considerati inamovibili del maestro toscano come la Madonna della Misericordia, la Santa Polonia, il San Gerolamo e un devoto o la Madonna con bambino. Il tutto grazie al ruolo di livello internazionale assunto dalle mostre forlivesi. Piero della Francesca, Indagini su un mito, offre un'analisi comparata storico-artistica unica nelle sue peculiarità. Questa è una mostra di rispecchiamenti. Abbiamo messo a confronto alcune opere fondamentali di Piero della Francesca, con il suo tempo, i suoi maestri e poi quella lunga stagione in cui la lezione di Piero della Francesca si diffonde come linguaggio comune, come linguaggio omogeneo nell'Italia centrale, dalla Toscana nei centri minori fino all'Umbria, alle Marche, all'Emilia, a Roma e poi al Veneto. A partire da questo nucleo di fondo, la fortuna di Piero della Francesca nel suo tempo, abbiamo analizzato altri rispecchiamenti. Dopo i due secoli di oblio che hanno attraversato la memoria della pittura pierfrancescana, a partire dall'Ottocento, abbiamo ricostruito la rinascita dell'attenzione a Piero della Francesca, un'attenzione che a partire dai macchiaioli, da Degas, da Puy de Chévin, da Serra e poi dagli inglesi come Duncan Grant, all'Ajard, arriva fino al Novecento, al Novecento italiano, dove la memoria di Piero, la lezione della pittura di Piero della Francesca viene consacrata, il Novecento è il secolo di Piero della Francesca.